Sono Luca Bianconi, sono amministratore delegato di Policart, azienda che produce imballaggi flessibili in materie plastiche e bioplastiche. La nostra produzione ormai è al 75% di materiali compostabili, quindi lavoriamo esclusivamente Mater B. Volevo farvi vedere i nuovi prodotti che stanno uscendo adesso sul mercato, quindi partiamo da questa etichetta, etichetta compost label, è un marchio registrato, è stata già certificata, quindi è un'etichetta compostabile in materiale bioplastico con un adesivo compostabile, quindi può essere utilizzata sia per la frutta, quindi applicata direttamente sul frutto, oppure è possibile fare anche delle etichette normali per usi diversi, quindi possono essere utilizzate nel settore del vino, dell'olio o anche come etichette per la bilancia, quindi dove può essere stampato il peso, il codice a barre con il prezzo. Un altro prodotto abbastanza innovativo è la carta accoppiata Biomade, questa è una carta particolare, si tratta di un prodotto molto sostenibile, è una carta fatta con gli scarti della canna da zucchero, abbiamo utilizzato una colla certificata compostabile e il film di nostra produzione è un film a 7 micron, idoneo per il contatto alimentare, quindi questo prodotto può essere interamente smaltito nell'umido e può essere smaltito come un rifiuto organico della cucina. Ultimo prodotto, il più nuovo dal punto di vista della tecnologia, questo è un sacco mozzarella, è molto richiesto dal mercato, ha una grande resistenza meccanica, è idoneo per il contenimento dei liquidi e ha anche un contenuto da fonte rinnovabile superiore al 50%, quindi con questa applicazione riusciamo ad interessare ampi settori del settore della gastronomia, della grande distribuzione. La nostra collaborazione con Novamont ormai storica, noi cerchiamo di trovare soluzioni alle esigenze del mercato, cercando di coadiuvare anche le performance elevate dei materiali che riceviamo e acquistiamo da Novamont.